E' ancora in gravi condizioni all'ospedale di Padova, il 19enne di Scorzè sbalzato sabato sera fuori dal finestrino di un pick-up, un'auto con cassone, guidato da un amico a tre baseleghe. Il ragazzo è finito sull'asfalto e ha picchiato violentemente la testa. Per le sue condizioni di salute era stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. L'incredibile incidente è successo al curvone di via Rio San Martino. Da una prima ricostruzione pare che a bordo dell'auto fossero in quattro e che il ferito fosse seduto sulla portiera posteriore con il finestrino abbassato e il busto all'esterno. Forse in curva gli è mancato l'appiglio ed è volato fuori dal mezzo. I carabinieri stanno valutando tutte le responsabilità, a cominciare da quella del conducente.